Le scuderie di Quirinale ospitano una mostra straordinaria per certi aspetti in quanto possiamo seguire tutta la carriera di Lorenzo Lotto, uno dei grandi protagonisti del rinascimento europeo, grazie a una vastissima operazione di tutela attivata sul territorio italiano in primis, poiché accanto alle scuderie di Quirinale, il Ministero per i beni culturali, le regioni, le soprintendenze, i comuni d'Italia, di Lombardia, Veneto e Marche, le tre regioni che hanno visto il lavoro e l'attività di Lorenzo Lotto, si sono unite per effettuare una vastissima campagna di restauri, restauri che hanno consentito di salvaguardare le opere di Lotto che porteranno a un grande progetto territoriale che vedrà reilluminate le opere nelle chiese, ma che soprattutto riattiverà il turismo culturale, ci si augura in questi luoghi. Accanto dietro di me vi è uno dei capolavori di Lorenzo Lotto della fase centrale della sua carriera, gli anni d'oro, gli anni bergamaschi e nella Pala di San Bernalino in Pignolo, un'opera che da sola riempie la chiesa, quasi un narratorio nella quale si trova, abbiamo tutta la sua arte. qui quattro angeli potenti con le ali della ghiandaia, quindi le ali forti di un uccello rapace reggono un verde tendaggio che fa da sfondo a una Madonna con il bambino una sacra conversazione di Santi. Sosservate la Madonna che è colei, che coglie il nostro sguardo grazie a questi colori freddi vivissimi della tavolozza di Lorenzo Lotto, ci indica in basso, ci indica un angelo, quell'angelo con le ali invece di pavone insieme a quelle di un colombo, quindi un uccello più da pollaio che non deve volare, ebbene quest'angelo sta scrivendo le preghiere che siamo andati in chiesa a dare da portare lassù in cielo. Accanto ad assistere alla scena abbiamo un San Giuseppe, un San Giuseppe con i piedi scalzi del camminatore che già ci ricorda e ci fa capire che cosa sarà Caravaggio. La manica, la vedete, si è sganciata dalla veste e rimane il filo Penzoloni, un Giuseppe che guarda all'angelo, uno sdentato San Bernardino che in estasi osserva il bambino e qui c'è già tutta l'ironia di Lorenzo Lotto, accanto poi a figure come il Santo Antonio Abate, il Santo sempre tentato, sempre incerto e alla ricerca della sua fede a cui Giovanni Battista deve indicare l'agnello di Dio con un tono molto condiscendente. Questa è un'opera in cui capiamo proprio che cos'è Lorenzo Lotto. Lorenzo Lotto è l'alternativa alla classicità di Raffaello, accanto cui lavorò alle Stanze Vaticane, ma anche l'alternativa alla aulicità di Tiziano Vecellio, perché non c'è più simmetria nelle sue opere, se osservate il tendaggio si piega levemente di lato e questo da movimento all'opera, oppure guardate lo sfondo coperto da questo muro che sembra quasi cemento, da un lato è chiaro, dall'altro è scuro, proprio per giocare con gli elementi cromatici, questi colori freddi, questi colori nuovi, una tavolozza satura e intensissima che ha permesso a Lotto di raccontarci meglio di ogni altro artista l'abbigliamento, l'assuntuarietà, le emozioni dei suoi protagonisti.